Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul canale, io sono Lisa e oggi, come potete leggere dal titolo, si torna finalmente a parlare di libri e parliamo di libri facendo un bilancio delle letture di metà anno. Premessa molto breve, io non voglio scusarmi per non essere truccata, per avere le luci brutte, per parlare tanto, per gesticolare. Se non vi piace, ve ne andate, punto. Perchè mi spiace davvero vedere questi commenti sotto ai video, perchè significa che il video non è stato ascoltato e io in realtà ho delle cose da dire e mi piacerebbe davvero che invece ci si concentrasse sul fatto che sto parlando di libri e quindi se non sono truccata, chi se ne frega. Comunque, parliamo del bilancio delle letture di metà anno e comincio subito col dirvi che io sono molto contenta quest'anno per come sta andando, molto più dello scorso anno. Allora, l'anno scorso avevo fatto una sorta di TBR, quindi inserendo dei titoli, insomma facendo una sorta di scaletta di quello che potevano essere letture papabili, ma poi in realtà questa cosa, come sospettavo, si è rivelata fallimentare. Fallimentare perché? Perché quando io mi trovo costretta a fare una cosa, soprattutto quando mi trovo costretta a vedere un film, leggere un libro per forza, poi non mi godo l'esperienza, faccio una fatica terribile, mi ci vogliono giorni, giorni, giorni. Quest'anno quindi ho deciso di fare un approccio totalmente diverso. Anarchia totale, quello che voglio leggere leggo, se lo voglio comprare, se lo voglio prendere in libreria, se ce l'ho qui in casa, in biblioteca, quello che mi va di leggere, punto, senza grosse paranoie, sinceramente. L'unica cosa, diciamo appunto, che ho fatto è stata quella di darmi un obiettivo numerico, ma non perché leggere sia effettivamente una gara, un obbligo e cose di questo genere, ma semplicemente perché io voglio incrementare il mio livello di lettura, voglio aumentare la mia esperienza di lettura, voglio crescere proprio facendomi le ossa, no? Come quando va allenata in palestra, è la stessa cosa. Io ho sempre letto molto, poi sono arrivata ad un certo punto della mia vita, ho già raccontato un po' quello che è stata la mia esperienza, dove ho cominciato a leggere molto meno, o comunque leggevo solo testi universitari, saggi, e la lettura per svago era diventata veramente poca, si era veramente ridotto il numero delle mie ore di lettura, e poi soprattutto c'è stato un periodo in cui io forse avrò letto due libri l'anno, quando più o meno io mi sono sempre assestata intorno alla trentina, così, su per giù. Però, detto questo, vorrei proprio anche superare, scavalcare questo limite, e quindi quest'anno mi sono data il, diciamo, il tetto massimo su Goodreads, mi sono data di 40 libri da leggere. Ovviamente in questi 40 libri letti io conto anche fumetti e graphic novel, perché comunque quello è il tempo che io dedico alla lettura e voglio che venga calcolato. In totale, io qui ho qualche appunto, perché ho visto dei video tag che però non mi piacevano più di tanto, cioè, diciamo, le domande non erano proprio nelle mie corde, quindi mi sono presa qualche appunto. Allora, 23 libri letti di 40, di cui 6 fumetti barra graphic novel, quasi tutti letti in cartaceo e, insomma, ci ho fatto caso, in realtà non ho letto libri dalla grande mole. Tendenzialmente ho letto libri corti, comunque racconti, raccolte di racconti non particolarmente lunghe, brevi romanzi brevi, eccetera. Però, se io vado a guardare le cose che ho letto, devo dire che sono state tutte abbastanza anche impegnative, se vogliamo. Scusate, ma provo ad avvicinare un pochino. Ok. Come ad esempio Vuming, dove ho letto L'Invisibile Ovunque, che, insomma, sono quattro racconti dedicati alla guerra e non sono poi così leggeri, perché, se conoscete poi un po' Vuming, loro sono molto molto dettagliati. Cos'altro ho letto? Ho letto Shasha, ho letto Camilleri, insomma, diciamo, il mostro della memoria anche. Quindi, libri molto brevi in prevalenza, ma intensi, perché non è che se vi leggete 500 pagine di nulla vale di più di leggerne 150, molto pregne di tutto, no? Di trama ben fatta, di capacità di scrittura, eccetera. Quindi, secondo me, hanno comunque anche loro un gran valore. Sicuramente, i due libri che ho apprezzato di più quest'anno, anche se ho fatto veramente, secondo me, delle gran belle letture, i due libri che ho apprezzato di più, uno ve lo posso mostrare, perché l'ho acquistato, e l'altro, invece, non ce l'ho, ma vi lascerò appunto i link per vedere appunto su Instagram, dove vi parlo un pochino di questo libro. Allora, la prima lettura è stata proprio il primo libro che ho letto durante l'anno, ossia Il Circo della Notte, di Erin Morgenstern, sbaglio sempre il cognome, mi dispiace. È di Torizzoli, l'ho preso in biblioteca, l'ho divorato, perché mi è piaciuto tantissimo, ve ne ho parlato svariate volte qui sul canale, e non so se poi ho fatto una piccola recensione anche su Instagram, nel caso, link qui sotto. Comunque, c'è qualcosa che mi disturba, forse un capello. Comunque, libro bellissimo. Perché certi libri ci piacciono più di altri, o perlomeno perché cosa guardo io in un libro, quando dico è il libro più bello che ho letto, il libro più bello dell'anno, uno dei miei preferiti. Io guardo non tanto la trama in sé, perché le storie fondamentalmente sono tutte belle, ma dipende molto da come vengono raccontate, quindi io guardo molto lo stile, le emozioni che riesce a suscitarmi, non significa che deve suscitarmi solo emozioni positive, ma guardo proprio tutto quello che quel libro riesce a trasmettermi, e in termini di contenuto, e in termini, diciamo così, un pochino più grammaticali, lessicali, tutto quello che un libro mi dà. Ecco, questo libro mi ha dato tantissimo, perché la storia è molto bella, mi piace quando si parla dell'amore in questo modo, perché fondamentalmente questa è una storia d'amore, dove c'è la magia, dove c'è l'inganno, dove c'è la fiducia, il mistero, ovviamente tutto ambientato all'interno di questo mondo cercenze che io ho apprezzato da morire, scritto in maniera secondo me eccezionale, perché è così che si scrive un libro, soprattutto un libro fantasy, perché fantasy, io lo vorrei sempre ricordare, non è solo fate, elfi e folletti, ma soprattutto fantasy non è invento, accacchio e ci infilo la qualunque, perché tanto è fantasy, no, non è fantasy quello, quello è qualcos'altro, il fantasy è un mondo fantastico appunto, che può spaziare dalle fate, non lo so, agli orchi, o anche ad esempio alla magia, un po' nel soprannaturale, ma comunque tutto quello che voi raccontate in un fantasy lo dovete comunque motivare in qualche modo, comunque questa digressione sul fantasy la archiviamo, l'altro libro non ce l'ho ed è Cat Pearson, o Cat Person, chiedo perdono ma non ho un'ottima pronuncia in inglese, scritto da Christian Rupenian, questa raccolta di racconti è veramente tanto chiacchierata, a me è piaciuta tantissimo, forse non particolarmente originale al 100%, nel senso che sì, in alcuni punti ho trovato le idee molto buone, diverse da quello che ho letto finora, lo stile forse non è tutto questo grande innovativo, insomma, no, però a me è piaciuto, mi ha piaciuto tanto, ho apprezzato tantissimo le tematiche affrontate, il modo come sono state affrontate, ho apprezzato la scelta anche del linguaggio, sempre diverso a seconda del racconto narrato, narrato, insomma, un ottimo libro, questi sono i due titoli migliori che io ho letto finora, vi ho parlato di Cat Pearson, sono sicura su Instagram, quindi comunque vi ripeto, vi lascerò eventualmente link nelle schede, e link sotto di tutti gli approfondimenti, per quanto riguarda questi libri, vediamo un po', a libro più brutto, come dicevo, io in realtà non ho fatto delle gran brutte letture, solo tre libri si sono rivelati, secondo me davvero brutti, ma proprio bruttissimi, però uno su tutti si è distinto, io alla fine ci ho dovuto riflettere un pochino, però secondo me, continuo a ripetere quello che ho detto nella recensione di questo libro, che Inc. è veramente un libro bruttissimo, è proprio secondo me l'esempio di quello che a me non piace, di come non si scrive, di come non si racconta, non c'è uno stile particolare, la trama non è ben strutturata, vi rimando alla recensione, comunque io assolutamente non l'ho apprezzato, è proprio l'emblema di come non si scrive, è l'emblema dei libri che io non vorrei vedere pubblicati, perché secondo me libri del genere hanno bisogno di essere presentati al pubblico con una maggiore cura, quindi questo non significa che bisogna censurare, ma che prima di mandare in stampa un libro del genere bisogna pensarci 50 volte, perché forse quel libro non è pronto per vedere la luce della pubblicazione. Piccola postilla, credo di averlo detto nella recensione, ma non ne sono certa, credo che ci sia stato anche da qualche parte non qualche errore, perché non credo che sia proprio un errore, però forse la traduzione non è stata sviluppata al meglio, perché ci sono delle cose che non mi sono rimaste chiare proprio anche in termini di terminologia, di linguaggio di questo mondo. Probabilmente in lingua originale è diverso, ma non lo so. Comunque, andiamo oltre. Allora, libri abbandonati, in realtà, Inc. ho saltato tutta una parte, a un certo punto mi ero proprio rotta, perché diceva sempre le stesse cose, sono andata avanti, ho letto solo il finale. L'unico che ho veramente abbandonato è Amabili Tessi, che ho acquistato, usato da Clarissa, questione di libri, che sicuramente conoscete, perché ha un profilo Instagram, secondo me, eccezionale, uno dei più belli in assoluto. non perché il libro non mi stesse piacendo, mi stava piacendo molto, si legge molto velocemente, ma è un libro che, secondo me, richiede uno stato emotivo molto forte. E nel momento in cui ho ricevuto quel libro, sebbene avessi tanta voglia di leggerlo, perché lo volevo leggere da un sacco di anni, non ero proprio nel mood giusto, cioè ero veramente molto triste, proprio triste, triste. E se siete tristi, state lontani, da Amabili Resti, perché ogni pagina voi cominciate a piangere, cioè già vi fa piangere di suo quel libro, perché è un libro, ripeto, molto forte per le tematiche, vi lascerò la trama qui sotto, ma secondo me, se in quel momento avete un po' di debolezza emotiva, ecco, come me, lasciate stare. Cioè, proprio la felicità in quel momento per me era una cosa lontana, quindi leggere Amabili Resti contribuiva a farmi stare ancora peggio a livello emotivo, però non escludo di riprenderlo in mano insomma, nella seconda metà dell'anno, perché comunque mi è sembrato per quello che ho potuto leggere io un libro molto valido. Allora, prossime letture. Come vi ho accennato, io non amo essere costretta in qualcosa, quindi con titoli prestabiliti, eccetera, però quando prendo un libro dalla biblioteca gli do la precedenza. E in questo caso parliamo di Addio Fantasmi, di Nadia Terranova, quinto arrivato, se non sbaglio, al Premio Strega, e nulla, io l'ho preso in biblioteca già da diverse settimane, forse da due, credo, e si parla di come si supera il lutto per un abbandono o comunque, più in generale, per una perdita che non è la morte, quindi per l'assenza di qualcuno che in realtà da qualche parte nel mondo ancora esiste. è un argomento che mi interessa moltissimo e ho letto le prime 20 pagine e niente, io non vedo l'ora di andare avanti perché secondo me anche questo sarà uno dei libri più belli che io potrò aver letto quest'anno, promette davvero molto bene, sono davvero molto 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 curiosa e ho delle aspettative molto alte. Altro libro che voglio assolutamente leggere proprio a breve, ho altri titoli per la testa che vorrei, però mi sono ripromessa di terminare le saghe che ho in circolo non necessariamente durante quest'anno però vorrei terminare le saghe che ho iniziato e una delle saghe che ho iniziato da un sacco di tempo che l'anno scorso ho ripreso in mano e che però ancora non ho terminato è la saga di Miss Peregrine ovviamente il secondo Hollow City sicuramente lo prenderò insomma al rientro dalle vacanze lo andrò a leggere perché appunto voglio terminare la saga e vedere effettivamente come va a finire anche perché sono rimasta un filino delusa dal film e quindi ho voglia di proseguire proprio con con la trilogia che poi credo che sia uscita anche una raccolta di novelle una roba del genere quindi spero di poter chiudere il cerchio Miss Peregrine il prima possibile e queste sono le prossime letture ovviamente ho tante altre cose per la testa ma cerco di fare una cernita cosa vorrei assolutamente leggere entro la fine dell'anno l'ho citato lo scorso anno lo cito ancora quest'anno ogni tanto lo nomino vorrei finalmente riuscire a leggere Il Signore degli Anelli Il Signore degli Anelli adesso faccio crollare tutto io ho provato a leggerlo non so quante volte nella mia adolescenza sono sempre arrivata più o meno a un certo punto diciamo che non ho mai scavalcato le 600 pagine vorrei finirlo vorrei leggerlo vorrei finirlo vorrei poter leggere altro di Tolkien e niente mi auguro di riuscire a farlo senza impegno ovviamente mi piacerebbe anche dedicarmi un po' di più alla saggistica lo scorso anno ho letto solo due saggi quest'anno praticamente è soltanto un saggio storico per un esame e io ho amato da morire questo libro mi è piaciuto veramente tanto mi piacerebbe farvi un video proprio dedicato però in generale mi piacerebbe leggere un po' più saggistica insomma perché quest'anno veramente non ho approcciato per nulla questo questo mondo siamo arrivati alla fine tutte le uscite che attendo con ansia ci sono un sacco di libri che io attendo con ansia che vorrei appunto acquistare soprattutto in questa seconda parte dell'anno sto morendo di caldo non ce la faccio più ma in particolare ci sono tre cose che sto aspettando davvero davvero con molto hype primo il priorato dell'albero delle arance il priorato dell'albero delle arance non ce la possiamo fare che se non sbaglio esce a natale per mondatori e poi a settembre dovremmo avere due grandi uscite Nevernight di Jack Kristoff dovrebbe uscire il 3 settembre tutta la saga quindi sono 3 o 4 comunque tutta la saga tutta insieme e poi Lei Bardugo dovrebbero uscire i primi due volumi i primi due volumi due volumi inerenti al Grishaverse ossia 6 di Corvi e Crooked Kingdom che in italiano è il regno corrotto comunque Lei Bardugo avevano detto che sarebbe uscita già nella prima età dell'anno poi a un certo punto sono sparite tutte le notizie inerenti alla faccenda ora tutto tace queste sono tutte uscite mondatori che io sto davvero aspettando con un'estrema ansia ma l'orizzonte soprattutto per quanto riguarda Lei Bardugo tutto tace anche se mi sembrava di aver letto comunque metà settembre questo significa che tra settembre e dicembre dilapiderò tutto lo stipendio di fatti mi sto molto trattenendo dall'acquistare cose nuove perché comunque so che ci saranno queste spese enormi diciamo che in generale io sono molto soddisfatta delle letture che ho portato a termine quest'anno sono contenta di leggere con questo ritmo piuttosto alto sono molto molto felice di questo ho acquisito un sacco di abitudini diverse come ad esempio leggere la mattina a colazione che era una cosa che non facevo ovviamente quando ne ho il tempo che non devo correre a scuola a portare Federico però diciamo che in generale sono molto molto felice del percorso che sto facendo quest'anno e spero davvero di arrivare al tetto dei 40 e quindi vincere la Goodreads Challenge mi piacerebbe davvero molto quindi obiettivo 2019 arrivare a 40 libri niente io spero di avervi fatto compagnia queste giornate caldissime vi saluto vi avverto che ci saranno dei video penso nelle prossime settimane non dedicati ai libri ma dedicati a spacchettamenti e cose varie perché probabilmente non mi siederò più di fronte a una telecamera da qui a settembre perché fa veramente troppo caldo e non ho voglia quindi riciclerò dei video che ho già registrato nelle settimane precedenti detto questo io vi saluto e vi rimando al prossimo video ciao